squadra mentalità e grande personalità per concludere l'analisi a te invece che partita è sembrata luca hanno giocato bene scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali e grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima è finito il tempo a nostra disposizione un ringraziamento a luca marchegiani come sempre a mio fianco un onore per me saluto e ringrazio il pubblico da casa grazie 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 a tutti.